Ben trovati da Tg della Mobilità, sono in strada le linee S dalle 14.30 alle 17.30 per il turno pomeridiano di servizio. Le linee S sono i collegamenti speciali dalla periferia al centro per sostenere gli spostamenti degli studenti. Cantieri in città da oggi a 18 giugno, lavori sulla rete del gas di Corso d'Italia, conclusione al traffico all'altezza di via Giacomo Puccini. Sempre oggi iniziano i lavori sulla rete del gas di via Isole Cursolane, sino al 7 giugno possibili rallentamenti per le linee 339 e 349. Tutto per questa edizione del Tg della Mobilità.